Lo Yad Vashem testimonia gli orrori della Shoah, ma anche il coraggio di chi mi sposa. Ci ricorda il dovere della memoria, della lotta all'indifferenza, del contrasto all'antisemitismo. L'Italia è impegnata con forza nella difesa della dignità umana, nel rigetto di ogni forma di odio, nel rifiuto di ogni discriminazione, nella ricerca della pace. Possa il silenzio di questo luogo esserci di aiuto per affrontare la violenza dei nostri tempi. Grazie.